Tessera Revisore Ho amato la natura fin da piccolo. I miei ricordi vanno a quando guardavo il mondo dall'alto, dallo zaino di mio papà durante le escursioni estive in montagna. E poi dal basso del mio metro è qualcosa, non appena ho imparato a camminare e a riconoscere cosa fosse un sentiero. Mio padre è fotografo naturalista. Mi ha insegnato a osservare e a farmi domande. La farfalla che si posava sulla mia mano, gli stambecchi maschi in lotta nella nebbia autunnale, i minerali che brillavano al sole. Piano piano sono diventati dei compagni che ritrovavo tutte le estati. Sulla riva di questi laghetti alpini ho dato il mio primo bacio. E molti dei viaggi immaginari che facevo da adolescente avevano luogo in montagna, erano ambientati lì. Salire verso l'alto, scoprire nuovi sentieri, era ogni volta un'avventura, ma anche qualcosa che mi faceva sentire a casa. Estate dopo estate, cercare stelle cadenti nel cielo notturno e una sana passione per guerre stellari. Mi ha fatto venire voglia di conoscere meglio l'universo. Allora ho comprato un libro che spiegava le stelle, le costellazioni, e leggevo di nebulose, di polvere, che creavano pianeti, di particelle in viaggio fin dall'origine dell'universo, di fusione nucleare al centro del sole. Tutto aumentava il mio senso di meraviglia. Spazi e tempi immensi erano a portata di un semplice binocolo, anzi, a volte li potevo percepire anche a occhio nudo, come quando trovavo la galassia di Andromeda nel cielo e mi accorgevo di stare guardando indietro nel tempo di due milioni di anni. Tanto ci aveva messo la luce ad arrivare ai miei occhi. O quando vedevo il centro della nostra galassia, la Via Lattea, e mi accorgevo che in fondo io e lei eravamo fatti praticamente degli stessi elementi. A scuola non ero molto bravo in fisica. Sapevo fare bene i conti, ma dimostrare i teoremi non era il mio pane. Però il mio professore di scienza era un laureato in scienze forestali, una disciplina che non sapevo neanche esistesse. Mi spiego che questa materia insegnava non solo a conoscere la natura, ma anche a lavorare insieme a lei per il bene della società. Sembrava un lavoro a contatto con l'ambiente, e in più mi affascinava la prospettiva di mettere un po' le mani in pasta, anziché limitarmi a uno studio da spettatore. Così era deciso. L'estate della maturità mi iscrissi a scienze forestali. Negli anni dell'università continuavo ad andare in montagna, ma l'attenzione si spostava ora sul bosco, che fino ad allora consideravo uno sfondo oppure un noioso intermezzo da superare il più in fretta possibile per arrivare un po' più in alto. Ora invece imparavo a riconoscere gli alberi, a chiamarli per nome, a sapere che ciascuno ha i suoi gusti, infatti di luce, di acqua, di suolo dove crescere. Soprattutto imparavo che tutte le cose in natura sono collegate, anche su distanze e tempi che sembrano impossibili da colmare. E un po' come i nostri atomi sono stati forgiati nel nucleo delle stelle miliardi di anni fa, allo stesso modo le foreste portano in sé la traccia di eventi lontani nel tempo e nello spazio. Prendiamo gli anelli di accrescimento annuali degli alberi. Negli anelli noi possiamo leggere non solo l'età delle piante, ma anche la pioggia, il caldo, il freddo del passato registrati nell'ampiezza di ciascun anello. Così che leggendo oggi questi diari naturali siamo in grado di ricostruire il clima di decenni o centinaia di anni fa e capire come stia cambiando. Per esempio, quasi tutti gli alberi della Terra si ricordano della più grande eruzione vulcanica registrata in tempi storici, quella del vulcano Tambora in Indonesia, 1815. In poco meno di un anno la cenere fece il giro della Terra, si disperse in tutta l'atmosfera, causando una stagione così fredda e umida che il 1816 venne ricordato come l'anno senza estate. Quell'anno gli alberi crebbero molto meno e ancora oggi troviamo la traccia di questa eruzione nell'anello di accrescimento del 1816, improvvisamente più stretto di tutti gli altri. Molte altre cose accaddero in quell'anno senza estate. Gli eserciti di Napoleone si impantanarono nel terreno inaspettatamente zuppo a Waterloo. Nella campagna svizzera un gruppo di amici scrittori fu costretto a passare gran parte dell'estate al chiuso. Tra di loro, una diciannovenne, Mary Shelley, scrisse Frankenstein. I tramonti e i cieli del nord Europa si colorarono di rosso a causa della cenere vulcanica che era ancora dispersa nell'aria, come vediamo ancora oggi nell'urlo di Munch. Ecco, ogni volta che guarderete questo quadro, da oggi in poi potrete percepire quanto siamo connessi a tutto quello che avviene sul pianeta. Anche se non ce ne accorgiamo, pure le foreste oggi ci legano alla terra e rendono possibile la vita. Più di un miliardo di persone nel mondo dipende dalle foreste per bere acqua pulita. Gli alberi inoltre trattengono il terreno con le radici, intercentano la pioggia con le foglie, la fanno infiltrare lentamente nel suolo con il loro humus, diminuendo così la velocità del deflusso e proteggendo chi abita a valle, da frane e alluvioni. Il carbonio che gli alberi assorbono grazie alla fotosintesi viene sottratto all'atmosfera e questo ci aiuta nella lotta ai cambiamenti climatici che senza le foreste sarebbero del 30% più intensi. L'assorbimento di carbonio poi può essere prolungato se facciamo rivivere gli alberi nel loro legno. Le travi del tetto di alcune malghe e baite di montagna ci dimostrano che il legno potrà tenere carbonio al suo interno per decine o centinaia di anni e oggi l'edilizia in legno sta vivendo una nuova primavera. Gli architetti di tutto il mondo si sfidano a costruire edifici in legno sempre più alti, di design, grazie alle nuove opportunità offerte dal must timber, dall'Xlam. In fondo il legno che usiamo tutti i giorni negli oggetti di casa nostra ci connette a tutta la terra, all'aria che è servita per far crescere gli alberi, all'acqua e al suolo che li hanno nutriti, alle mani e alla fantasia di chi li ha lavorati per noi. Purtroppo in Italia quando usiamo legno ci connettiamo invece spesso a ingiustizie ambientali o sociali. Nonostante le nostre foreste siano in aumento, quasi l'80% del legno che utilizziamo proviene dall'estero e di questo un quinto da foreste che sono tagliate in modo illegale o insostenibile come negli stati del Sud America o dell'Europa dell'Est. Le foreste sono un ecosistema delicato. Se non sono gestite nel modo corretto rischiano di perdersi e con loro la qualità della vita di chi dalle foreste dipende per acqua, cibo, lavoro. Una parte dei migranti climatici che oggi sono costretti a spostarsi in ampie parti del mondo sono spinti a partire dalla deforestazione e dagli effetti che la deforestazione ha sulla sicurezza alimentare, sull'accesso all'acqua e sulla salute. Esistono invece strategie per aumentare l'uso del legno in modo sostenibile dalle nostre foreste evitando gli impatti a lunga distanza e garantendo al tempo stesso la conservazione della loro biodiversità e della funzione di protezione del suolo. Per esempio si tratta di scegliere le piante da tagliare in modo da lasciare spazio e luce alle nuove piantine che nel frattempo si saranno sviluppate dai semi che gli alberi intorno hanno disperso nell'ambiente e che crescendo garantiranno che la foresta nel suo complesso continui a prosperare. Scegliere quali piante tagliare e quali lasciare quali foreste possono darci legno in modo sostenibile e quali invece è prioritario gestire e conservare per la loro diversità e il compito della pianificazione forestale. Un compito che deve impostare oggi quello che vogliamo che accada tra 50 o 100 anni perché la lentezza con cui crescono le foreste ci obbliga a connetterci con una percezione del tempo radicalmente diversa dalla nostra. Guardando al futuro poi non possiamo dimenticare i cambiamenti climatici. Oggi l'aumento di temperatura di siccità causa ondate di mortalità nelle foreste di tutto il mondo. Può propagare e facilitare la propagazione di incendi molto vasti come abbiamo visto in Italia nell'estate del 2017 e causare la drastica riduzione della superficie occupata da alcune specie forestali come già stiamo osservando nelle Alpi. In più un'atmosfera più energetica significa una maggiore probabilità che si verifichino alcuni eventi estremi come gli schianti da vento che si sono verificati in Trentino in Friuli in Veneto un fenomeno che non ha precedenti storici in Italia. Questi cambiamenti sono molto più veloci della capacità delle piante di evolversi e di adattarsi ma forse possiamo aiutare gli alberi ad attraversarli ad esempio facendoli crescere in modo che resistano un po' di più al vento o assicurandoci che esista una giovane generazione di piantine pronta a partire in caso di catastrofe naturale. Prendiamo per esempio un piccolo seme di faggio il faggio è una specie un po' speciale contrariamente alla maggior parte delle piante che si riproducono ogni anno come ci aspetteremmo da un organismo che è interessato a diffondersi a colonizzare l'ambiente che lo circonda il faggio invece funziona a intermittenza in alcuni anni produce moltissimo seme in altri poco o nessuno la cosa straordinaria è che questa variabilità è sincronizzata puntualmente tra albero e albero tra foresta e foresta anche su grandi distanze come tra le faggete delle Alpi e quelle della foresta nera in Germania con il nostro team di ricerca abbiamo scoperto che questa variabilità in realtà è causata da una ben precisa sequenza climatica è necessaria prima un'estate fresca e umida per aumentare la disponibilità di sostanze nutritive nel terreno e subito dopo una calda e secca per spingere le piante e le gemme a produrre fiori anziché foglie e se le sostanze nutritive si sono accumulate la fioritura avrà in massa e con essa la produzione di frutti e di semi questa sequenza inoltre è legata ai cicli dell'attività solare quando il sole è più attivo il clima sulla terra è un po' più variabile discontinuo imprevedibile e così è più probabile che si susseguano stagioni molto diverse tra di loro come nel caso di una fredda e umida e di una calda e secca subito dopo questo fenomeno ha ripercussioni su tutti gli ecosistemi anzitutto sul numero di germoglie di piantine che possono rappresentare il futuro della foresta soprattutto se queste annate di iperproduzione di seme si verificano subito dopo un incendio da cui la foresta quindi può riprendersi molto più facilmente e poi a cascata con effetti sempre più ampi sul numero dei mammiferi che si nutrono di quei semi sui parassiti che trasportano come le zecche per esempio o il loro ospite un po' sgradevole il batterio del morbo di lime o ancora sulle concentrazioni dei pollini che sono prodotti da quei fiori e che possono causare un picco nelle allergie ecco i cicli dei semi di faggio ci raccontano le storie delle connessioni che attraversano la natura dal seme al sole fino ad arrivare a noi quasi a rispecchiare lo stesso legame che accomuna i nostri atomi con quello che avviene nel nucleo delle stelle quando muovevo i primi passi nelle Alpi piemontesi non avrei mai immaginato di diventare uno scienziato a dire la verità volevo fare il contadino come suggerisce il significato originale del mio nome Giorgio ma guardavo l'ambiente che mi circondava mi lasciavo meravigliare dagli alberi dalle farfalle dai cieli stellati e capivo che tutte le cose erano in qualche modo collegate tra di loro una rete di relazioni in cui mi sentivo a casa piccolo forse ma non insignificante studiare le foreste e continuo a raccontarmi le storie delle relazioni che percorrono gli ecosistemi anche a grandissima distanza un fenomeno affascinante di cui posso addirittura farmi canale raccontando a voi oggi qui di alberi e di legno di semi e di incendi e aprendo una connessione attraverso cui ciascuno di voi possa sentirsi parte integrante dell'ecosistema riconoscendosi al tempo stesso una sua causa e un suo effetto che ce ne accorgiamo noi noi apparteniamo a queste relazioni e gli alberi e il legno come grandi connettori legano la nostra vita a quella di tante altre persone sulla terra vicine e lontane che sono venute o che verranno piccole ma non insignificanti tutt'uno col pianeta reti di relazioni con altri uomini e questo è quello che per me significa vivere grazie 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 grazie